Salve a tutti, oggi parliamo di un prodotto viso, più precisamente parliamo di un siero che dovrebbe avere una funzione illuminante e contrastare l'iperpigmentazione. Il siero di cui parliamo oggi è questo, ed è il siero della Delidea, siero viso illuminante, alla stella alpina Eribes. Se non conoscete la marca Delidea, andate a dare un'occhiata ai prodotti di questa marca, sono prodotti eco-bio, hanno prezzi accessibili e un buon rapporto qualità-prezzo. Ma torniamo al prodotto di oggi, che è questo siero illuminante, che costa 11,99€ per 30ml, ha una scadenza di 12 mesi dall'apertura, quindi un'ottima scadenza. Il prodotto dura abbastanza, anche se sono 30ml, ma sicuramente si finisce nell'arco di un anno. Il prodotto è anche certificato Natru, ve lo faccio vedere, eccolo qui, spero si legga, certificato Natru. Per quanto riguarda l'inci, io non ho più la scatola che contiene la boccettina dove c'è scritto l'inci, perché non è anche sulla confezione interna, ma ho fatto quello che faccio ormai sempre, ho preso questa abitudine, e ve l'ho stampato, così lo potete vedere. Aspettate. Credo si legga molto bene così. Ci sono un sacco di beglioli, un sacco di begli estratti. Ok, quindi l'inci l'abbiamo visto. Torniamo al nostro siero. Allora, la confezione è in vetro, quindi buono, ci piace. Ha un applicatore fatto con il, ecco, con questo contagocce, lo definirei. Tu voi dovreste inserirlo, prelevare il prodotto, qui ne è rimasto pochissimo, ecco, perché poi non lo vedete, e poi utilizzarlo, riversarlo praticamente sulla mano, poi applicarlo. Ecco, io non ci sono riuscita mai. Cioè, non sono riuscita a prelevare il prodotto, la pompetta e farlo uscire. Praticamente scavavo semplicemente con la pompetta e facevo uscire il prodotto. Quindi per me questo contagocce è stato disastroso, ma forse sono io che sono proprio imbranata. Forse voi, se siete più brave, riuscirete ad utilizzarlo al meglio. Quindi per me è stato molto scomodo, anche se l'idea era buona, insomma, in principio, anche molto genico, ma, insomma, non mi sono trovata. E poi la confezione è un po' scomoda per riuscire a prelevare il prodotto fino fino in fondo. Se siete come piace a me, questa boccetta vi darà da fare, perché riuscire ad arrivare in fondo non è facile. Per quanto riguarda la grafica, la trovo molto carina, semplice ma carina. Mi scuso ovviamente per, diciamo, i segni, sembra che i prodotti vadano in guerra, ma io li uso tanto prima di fare la recensione. Quindi spesso le confezioni non sono integre, non sono perfette. Per quanto riguarda il profumo... Allora, il profumo non è dei più buoni, personalmente non mi è piaciuto molto. L'ho trovato un pochino simile a quello di un medicinale, medicinaloso si può dire. Vabbè, la gente dice petaloso, quindi, insomma, concedetemi di usare il termine medicinaloso. Comunque, il profumo non mi è piaciuto moltissimo, non mi ha particolarmente entusiasmato, però è anche un profumo che, una volta applicato il siero, svanisce presto. Non lo definirei comunque sgradevole, proprio un profumo che non si può sentire, ecco, non in questo modo. Per quanto riguarda la funzione di questo siero, questo siero viso, che ovviamente andrebbe applicato, come tutti i sieri, dopo aver deterso il viso, massaggiandolo poi fino ad assorbimento, dovrebbe avere un effetto illuminante, uniformare il colorito, insomma, la carnagione, proteggere dagli sbalzi di temperatura, e dovrebbe avere anche una funzione per contrastare le macchie, sia sul viso che sulle mani. Ve lo volevo fare vedere, ne è rimasto proprio poco poco, quindi cercherò proprio di prelevarlo, ma non sarà facile. Vedete, ha una consistenza, si vede già anche dentro al contagocce un pochino qual è la consistenza e il colore, ecco. Lo potete vedere. Eccolo qui, vedete. Per quanto riguarda, infatti, le mie opinioni, posso dire che, anche se, come abbiamo visto dall'Inci, il siero ha molti oli all'interno, in realtà è un siero molto fresco, non unge la pelle e si asciuga in fretta. Considerate che io ho una pelle tendenzialmente secca, ma se sbaglio il prodotto da applicare, quindi applico qualcosa di eccessivamente pesante, tende immediatamente a diventare mista. Ecco, questo siero non mi ha dato assolutamente questo problema, non ha assolutamente appesantito la pelle, ma l'ha anche idratata e nutrita. Io l'ho applicato in tutte le stagioni e devo dire la verità, trovo questo siero fantastico in autunno e primavera, ovviamente dopo il siero io ho applicato sempre una crema, aspettato che si asciugasse e poi ho applicato una crema, ma il risultato ancora più bello me l'ho dato in estate, l'ho utilizzato da solo, cioè senza utilizzare successivamente una crema, e mi è piaciuto tantissimo, proprio per la sua leggerezza, la sua freschezza, la sua capacità di asciugarsi facilmente, cioè riesce appunto a idratare, a nutrire senza appesantire, senza avere quella sensazione della crema che ti cola dalla faccia dopo 5 minuti che l'hai applicata, 10 minuti. Per quanto riguarda invece l'inverno, personalmente, per le mie esigenze personali, per le esigenze della mia pelle, ho preferito altri tipi di sieri di cui poi vi parlerò. Per quanto riguarda gli effetti che ha avuto su di me il siero, posso dire che per quanto riguarda la sua funzione illuminante e di uniformare l'incarnato, su di me ha avuto un effetto fantastico. È vero, dopo un po' di applicazioni si vede subito che la pelle è più luminosa e tende a uniformare effettivamente l'incarnato, anche per questo in estate mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda invece i rossori, quelli derivati dagli sbalzi di temperatura, che io appunto ho, soffro anche di questo, ho visto dei discreti risultati, ma non eccezionali. Quello su cui purtroppo non mi posso esprimere sono le macchie, cioè il suo effetto, il contrasto dell'iperpigmentazione, perché io non soffro di questo problema, non ce l'ho sul viso. Devo dire la verità, come impressione, ma la mia è veramente solo un'impressione, io credo che potrebbe funzionare per delle macchie un po' leggere, molto leggere. Se le macchie sono più visibili, insomma un po' più forti, non so se questo siero è abbastanza efficace, forse uno potrebbe necessitare di qualcosa di un pochino più forte. Se invece cercate davvero di uniformare solo l'incarnato, allora questo siero fa per voi. La pelle del viso risulta davvero più uniforme e anche più radiosa. Io, come vi ho detto appunto, ho una pelle secca, però penso che questo siero potrebbe andare bene anche per chi ha la pelle mista e per chi ha la pelle grassa. Ovviamente poi uno dovrà bilanciarlo con l'applicazione o meno successiva di una crema. E secondo me potrebbe essere anche adatto a delle pelli molto giovani, che al limite non necessitano di sieri antirugher, impolpanti, rassodanti. Ecco, questo siero secondo me potrebbe essere una buona soluzione. La dell'idea, non so se voi lo sapete, comunque fa altri sieri, fa tanti altri prodotti, però tra i quali anche dei sieri viso, tra cui uno di cui ho già consumato tipo due boccette, che è quello Argan e Dattery Bio. Quello è un siero che per esempio anche in inverno a me piace molto utilizzare, ha un effetto di tipo antirugher, lì si sente molto più forte l'effetto tensore, qui non c'è lo stesso identico effetto. Con quell'altro sì, l'altro assomiglia oltretutto più a una crema, questo ha una consistenza più gelatinosa, ve lo faccio rivedere, ma si capisce abbastanza, eccolo qua, lo vedete proprio, ve lo faccio rivedere. Ecco, finalmente sono riuscita a prelevarlo, ve lo faccio proprio vedere, vedete? È fatto così e poi si stende molto facilmente. Comunque è veramente molto piacevole nell'applicazione. Su quest'altro siero trattare l'idea, poi vi farò eventualmente un altro video. Credo sinceramente che lo ricomprerò per l'estate, non so se lo ricomprerò per la primavera, forse anche per la primavera ci devo ancora pensare, però per l'estate credo proprio che lo ricomprerò, perché mi è piaciuto tanto, davvero davvero tanto, perché ha una buona leggerezza e nello stesso tempo però nutre e tratta bene. Bene, questa era la mia recensione su questo siero viso, spero vi sia stata utile, da Velvet Monday Miglio è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.